Salve cari amici, tutti i tuoi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia, benvenuti se la prima volta che venite a visitarla. Qui Francesco, qui Ezebo Perone alla mia destra, abbiamo parlato del topolino, in questa settimana, non so quando pubblicherò questo video nello specifico, però quest'oggi parliamo dell'altro topo, cervelloni e scoperte, 4,50€, quarto numero della collana altro topo, che mi avete visto, non ne ho mai parlato perché ho acquistato il primo numero, quello sulla storia dell'arte, e ho acquistato questo, i due che avevano delle tematiche che effettivamente mi interessassero. Perché? Perché mi interessava questo album nello specifico, che ha comunque 230 pagine, quindi bello corposo, per 4,50€ c'è tanta carne al fuoco, è in realtà una ristampa delle prime se storie del ciclo topolino Comics and Science, scritte da Francesco Artibani e Fausto Vitaliano, in collaborazione con disegnatori diversi, abbiamo sicuramente Alessandro Perina, abbiamo Mazzarello, abbiamo anche altri disegnatori, abbiamo Mottura sicuramente, in collaborazione con diversi scienziati che hanno curato l'aspetto scientifico delle storie rappresentate all'interno di queste storie, quindi diciamo che c'è stato tutto un lavoro anche di ricerca e di approfondimento da parte degli autori per poter scrivere una storia che trattasse una tematica scientifica. La cosa è molto interessante, chiaramente non è che se ne tratti in una maniera tale che sembra un trattato scientifico, anzi, sono le classiche storie Disney in cui, per qualche motivo, c'è un elemento scientifico che poi viene approfondito sui topolini in un articolo a latere della storia e anche qui quegli articoli sono stati ripresentati nella stessa identica maniera. Cercherò di farvi un sunto veloce dicendovi quali sono le trame di queste storie nell'ordine in cui sono pubblicate, se ci riesco qui alla maestra metto anche le immagini delle storie della prima pagina tratta dal sito di Topolino. La prima storia che vediamo è Topolino e l'esperimento del Dottor P, scritta da Francesco Artibani. Una storia che vede Topolino e Pippo viaggiare nel tempo per andare a incontrare Einstein ed è una storia che si basa sulla teoria della relatività. C'è un elemento, una risoluzione della questione che si basa proprio su questa teoria e niente, non starò a dirvi che tutti gli articoli trattano l'argomento in questione e devo dire che come storia, come inizio, non è stato affatto male. Un inizio che riusciva a coniugare il classico viaggio nel tempo di Topolino, il personaggio famoso, lo scienziato famoso, la sua teoria, e fornircene una spiegazione alla portata di tutti, alla portata veramente di tutti, con, come dicevo, un articolo di approfondimento che chiaramente non è che approfondisca in maniera esaustiva a livello fisico, però dà comunque quelle nozioni per i più giovani, ma anche non per i più giovani, perché voglio dire molto banalmente, se io fossi un economo di fisica magari ne so poco e in questa maniera qui ho comunque la mia occasione di scoprirne qualcosa, scoprirne qualcosa di più, qualche approfondimento su un tema comunque importante per la nostra quotidianità che si dà per scontato, ma che forse scontato non è. Topolino e le onde trasformazionali è una storia nel futuro, con Topolino, razze e basettoni protagonisti della vicenda, tutti quanti hanno dei rimpianti in qualcosa di incompiuto sul pianeta Terra, mentre che viaggiano vanno vicino a un buco nero, che fa forma delle onde che, diciamo, trasformano la realtà in cui si trovano, che trovano davanti ai loro occhi, e di ritorno a casa prenderanno coscienza che possono fare qualcosa di più, possono fare la differenza. Una storia molto legata proprio a questo, al essere propositivi, al cercare di cambiare la propria realtà se questa non piace, ma che vede in queste onde, a tutti i fenomeni legati ai buchi neri e quant'altro, l'approfondimento scientifico della storia stessa, che in realtà tratta molto marginalmente questo elemento, per quanto sia risolutivo per l'appunto. In Paperino, Zipaperone, la fusione è semifredda, abbiamo Paperino che compra un distributore di bibite, tira giù la bibita dal distributore e viene fuori una sostanza strana. Paperino butterà via il macchinario, chiederà una sostituzione, ma scoprirà che questo liquido che ne è fuoriuscito è particolarmente energetico. Lo proporrà a Zipaperone, il quale capirà che in realtà è avvenuto una fusione a freddo all'interno del macchinario, per una qualche strana ragione, e si parterà alla ricerca di quel macchinario, perché comunque la fusione fredda può dare grandissimi vantaggi energetici alla popolazione, a noi fondamentalmente, è una teoria, c'è un ramo di studi dedicato apposta, c'è tutto l'articolo di approfondimento che ho trovato piuttosto interessante, piuttosto brillante, sempre alla popolazione di tutti ovviamente, quindi non è esaustivo, però interessante nelle poche nozioni che dà, la fusione fredda permetterebbe di avere tanta energia pulita, a basso costo, solo che non è così facile capire come realizzarla. Diciamo che la storia prende spunto da questo elemento, ce lo spiega, questo elemento qui, per poi raccontarci una classica storia disneyana, con Paperino e Paperone, che vanno in giro a ricercare quella macchina, che teoricamente dovrebbe essere andata distrutta. La storia successiva invece è Zepaperone e le molecole in affitto. Ci sono delle sostanze che sulla Terra sono poco presenti, ma che nello spazio sono piuttosto anche abbondanti. Sulla Terra c'è bisogno di pagare per averle, le molecole in affitto per l'appunto, che vengono affittate per compiere degli studi scientifici, e Zepaperone deciderà di andare sullo spazio, sulla Luna, per ricercare quegli elementi. Questa qui è proprio il pretesto narrativo, che poi vedrà Rocker, Douglaschi e i Bassotti cercare di fermare Zepaperone, nella più classica storia disneyana fondamentalmente, per un articolo di approfondimento che si lega in teoria alla Luna, e alle materie che si trovano sulla Luna, un pochettino di più. Interessante, ma forse tra le meno riuscite, sia come storia che come articolo. Si prosegue con le bioplastiche dello spazio profondo, una storia che vede l'inizio, con Minnie che parla tanto delle bioplastiche, quindi la plastica che si può buttare nel bidone, plastica biodegradabile, perché è fatta con dei processi naturali, con delle sostanze naturali fondamentalmente, quindi tutto molto interessante, e nell'articolo di approfondimento diciamo che ne troviamo parecchie di nozioni in merito, che sono risultate, almeno per me, piuttosto interessanti. La storia invece prosegue con un'invasione di alieni plasticosi, fondamentalmente, con Topolino che doveva trovare il modo di fermarli. Storia nulla di che, in realtà decisamente più interessante è proprio l'argomentazione, la trattazione scientifica di Corredo. Chiude l'albo, invece, Topolino e l'oscura macchia nera, una storia che parla della materia oscura che pervade l'universo, anche qui c'è un protesto narrativo che ci fa parlare di questo argomento, ma la cosa si chiude per poi raccontarci la solita minaccia di macchia nera a Topolinia. In conclusione, è un modo interessante e divertente alternativo per far conoscere e far apprezzare la scienza anche ai lettori più giovani, con anche magari storie che non saranno chissà quanto brillanti, ok? Proprio perché devi coniugare le due cose e di solito non è facilissimo. Però con degli articoli di approfondimento piuttosto ben riusciti. Se lo dico così fondamentalmente, io l'ho acquistato per rileggerlo perché comunque sono cose che mi affascinano e mi intrigano e mi interessano tanto. Questo non lo specifico, poi fatto proprio bene. Se avete figli, se avete dei fratelli, se avete più piccoli cui potrebbe interessare questo argomento qui, è secondo me un bell'albo per fargli conoscere queste cose. Se state per avere un figlio, se fondamentalmente volete divulgare anche a loro la passione Disney e la volontà di conoscere certi argomenti, questo albo è veramente straconsigliato perché in generale è bello, ma è anche, ci sono delle storie che magari non saranno eccezionali, ma comunque sono alla portata di tutti, di facile comprensione per tutti, con tanti approfondimenti anche adatti ai lettori più giovani. Quindi benvengano a questo tipo di iniziative, sia in Disney sia in Topolino che in albi raccolti a parte, dedicati, per poterli poi recuperare e tramandare anche le generazioni future. Detto questo noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!